Lunedì Puglia Un approfondimento su tutto quanto è accaduto proprio nella domenica e nel fine settimana in Serie D in eccellenza come ogni lunedì puntuali. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Antenna Sud. Oggi un gran parterre per andare a vedere, rivedere immagini ma anche commentare e cercare di capire anche qualche polemica che è nata e partita da qualche presidente. Ma non voglio perdermi in chiacchiere perché davvero sono tanti gli ospiti. Comincio dalla mia destra, ben ritrovato, ormai padrone di casa, qui con me il direttore Gigi De Lorenzis. Ciao direttore, ben ritrovato. Ciao Cristiano, un pomeriggio a tutti. Andiamo a fianco a lui il vicepresidente del Brindisi, Dabiano Pozzessere. Salve, ben ritrovato vicepresidente. Buonasera, grazie. Ancora a proposito di eccellenza abbiamo il centrocampista del nono del calcio Biceglie, Luigi Zinetti. Ciao, benvenuto. Buon pomeriggio, grazie mille. Andiamo alla mia sinistra. Abbiamo già un po', si entriamo un po' in clima derby perché proprio il primo alla mia sinistra è l'attaccante del Nardò, Eneo Gionai. Buonasera, buonasera Cristiano, grazie. Accanto a lui, a proposito del derby, c'è Gaetano Dammacco che è ovviamente attaccante del Brindisi e domenica si gioca proprio Brindisi. Nardò, ben ritrovato. Simone Fanelli, benvenuto, ben ritrovato anche a te. Anche Simone gioca nel Biceglie, però non nell'Unione del Calcio, ma nel Biceglie. Centrocampista, ben ritrovato e benvenuto. Grazie dell'invito, buonasera a voi. Abbiamo come sempre dei temi su cui puntare la nostra attenzione anche questo pomeriggio. Allora, polemiche a Cava dei Tirreni per arbitraggio da parte del presidente del Casarano Maci e del tecnico Costantini. Le polemiche anche del presidente della Brindisi, Daniele Arigliano, su arbitraggio di Banfetta, ma in realtà più in generale su diverse decisioni arbitrali che, a dire del presidente, avrebbero danneggiato proprio la squadra bianca-azzurra fino a questo momento. Poi Nardò rimonta e Vittoria resta imbattuto e questa è davvero la bella notizia. E poi il Barletta che resta sulla scia della Cavese dopo il successo della Putiolana. Prima di andare a vedere una prima carellata di immagini, quindi iniziare il nostro dibattito qui in studio, andiamo a vedere con la regia i risultati che sono maturati proprio ieri nella quattordicesima giornata della campionato di serie di Girone H. Eccoli qui, il Nardò ha battuto la Fragolese 2-1, Bitonto Martina è finita 2-2, 2-1 della Cavese sul Casarano, Francavilla Gravina 1-1, il Gladiator ha battuto la Nocerina 2-0, Matera Lavello 3-2, il Brindisi ha battuto il Malfetta 3-2, il Barletta alla Putiolana 1-0, è finita invece a Reti Bianche, come si diceva una volta, il match tra Fasano e Altamura. La classifica vede in testa la Cavese con 30 punti, il Barletta segue a due lunghezze, 28, Nardò 26, Brindisi 25, Fasano 23, Casarano 22, Altamura anche 22, Gladia Torventi, Martina 18, Matera 17, Bitonto 16, Afragolese e Nocerina 15, Malfetta 14, Lavello 12, Francavilla Insigni 10, Gravina 9, Putiolana chiude con 7 punti. Partiamo con le nostre riflessioni e poi vedremo anche le immagini, però le riflessioni in un giro velocissimo con tutti, parto proprio da te Gigi. Allora, iniziamo da questa polemica dell'arbitraggio, si è lamentato il presidente del Casarano Maci, ha detto che c'è sicuramente, a suo dire ovviamente, una decisione da parte di molte terne arbitrali di agevolare la Cavese, e la Cavese ha per Maci, fino a questo momento, almeno 6 o 7 punti in più di quelli che aveva meritato. Questa è la posizione appunto del presidente del Casarano, Casarano che appunto ieri ha perso con la capolista. Questioni arbitraggi, cioè Arigliano anche si è lamentato, ma partiamo insomma da questa situazione. Abbiamo spesso detto che ci sono inviati sui campi arbitri da altre regioni, che conoscono poco la serie, il girone H di serie D, ci sono tante scusanti nei confronti dei direttori di gara, ma in questo caso che cosa possiamo dire? Io penso che, anche se ci possa essere un fondo di verità dentro ogni protesta da parte di ogni presidente, che comunque investe tanto e quindi può ritenere opportuno lamentarsi davanti a determinate situazioni, però io penso che le polemiche in questo momento non servano, io penso che alla fine discorsi arbitrali nell'arco di un'annata si vanno a compensare o a favore di uno o a favore dell'altro e quindi alla fine io guarderei prettamente quello che avviene sul terreno di gioco. Chiaramente a volte certe decisioni possono essere anche discutibili, però io penso che debbano essere accettate con il buonsenso e con il principio che comunque oggi ti può essere andata contro, però forse in un'altra occasione ti può essere andata a favore. La verità è che comunque in testa c'è una squadra che ha anche il miglior attacco, ha la terza miglior difesa, quindi io penso che alla fine non possa essere soltanto un discorso arbitrale. Poi se ha avuto qualche favoritismo sicuramente si andrà a compensare con qualcosa che poi dopo gli sarà tolto. Ebbene potessere, la Brindisi non ha ancora incontrato la Cavese, la incontrerà fra due settimane, ma il presidente Arigliano ieri nel post partita con il Molfetta non si lamentava solo della gara di ieri, un po' è andato a ritroso in quelli che sarebbero stati, secondo lui, gli errori arbitrali che avrebbero danneggiato il Brindisi fino a questo momento. Quindi se la Cavese è a qualche punto in più a dire di maci, il Brindisi avrebbe a questo punto qualche punto in meno. Tornando alle parole del direttore, credo che a questo punto sia una questione di compensazione. Noi aspettiamo che sia propositiva verso la nostra squadra, perché ci è capitato più volte di avere degli episodi sfavorevoli per noi. E' chiaro che magari il presidente si è un po' sfogato per un trascorso che comunque non si riferiva soltanto alla partita di domenica. Ci sono state più volte decisioni un po' discutibili. E' chiaro che i valori in campo poi alla fine daranno comunque i risultati giusti, però quello che noi chiediamo è che ci sia particolare attenzione in virtù proprio della difficoltà del girone e nella decisione delle terne arbitrali che in realtà poi noi ci ritroviamo domenica dopo domenica. Allora, prima di iniziare anche a parlare con quelli che sono poi i protagonisti della domenica, vale dei giocatori, sia in serie di che in eccellenza, andiamoci a vedere questo treno di immagini, così abbiamo anche degli spunti di discussione, ovvero Molfetta, Brindisi, Capese, Casarano e Nardò a Fragolese. Vediamo. Un derby dalle mille emozioni, quello tra Molfetta e Brindisi, ad aggiudicarsi i tre punti, la formazione bianco-azzurra che resiste anche in dieci uomini nel finale di gara. Il Molfetta, nonostante la sconfitta, esce a testa alta. Una prima parte di gara di studio, poi la sblocca, la formazione di casa al sedicesimo. Calcio di rigore, Fucci viene fermato da Malacca in maniera irregolare, dal dischetto si presenta Longo che non sbaglia. Il Molfetta Provenzista è al diciannovesimo, sempre con Fucci dalla distanza, il suo tiro termina però alto sulla traversa, col passare dei minuti. Il tecnico bianco-azzurro mette nella mischia fellica e cambia il volto della gara. Al trentatresimo, cross di Valenti, sforbiciata di Dammacco e sfera alta sulla traversa. Al trentacinquesimo, Estauci, a provarci dalla sinistra, para Crispino. Passano tre minuti e il Brindisi pareggia. Inserimento di Danna che trova il tocco vincente, che vale l'uno a uno. Il Brindisi vuole ribaltarle, ci riesce quattro minuti dopo. Al quarantaduesimo è proprio il neo entrato fellica a trovare l'inserimento giusto e la sua prima rete in bianco-azzurro, che vale il 2-1, col quale si chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa, subito, la terza marcatura del Brindisi. Passano otto minuti e fellica, questa volta nel ruolo di assistman, a servire Dammacco che non sbaglia e manda la sfera in rete. Il Molfetta però non si arrenda, al tredicesimo ci prova Manzo dalla distanza, Vismara respinge, al quarto dollar riapre la formazione di casa con un tiro di forza e potenza di Fucci che manda la sfera in rete. Al ventesimo ci potrebbe essere la svolta della gara, a gioco fermo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il secondo assistente del direttore di gara segnala una irregolarità da parte di Esposito che viene espulso. Il Brindisi resta in dieci, il Molfetta ci prova, mette dei cross pericolosi senza concretizzare, come al quarantesimo quando il pallone lungo sul secondo palo trova la testa di Tedesco che sotto misura manda alto. È l'occasione più importante, Brindisi resiste negli ultimi sette minuti di recupero e porta a casa una vittoria fondamentale per morale classifica, nonostante il mancato successo per il Molfetta. Comunque applausi da parte del proprio pubblico per l'impegno dimostrato. Arriva in terra a Campana, una seconda confitta della stagione per gli uomini di mister Costantino che però hanno provato fino all'ultimo, perché c'era un prezzoso pareggio. Per vivere la prima emozione dell'incontro però bisogna attendere il diciassettesimo quando la Riperta prova il sinistro dal limite, nell'occasione però del pallone si perde di poco all'alto dalla porta di tesa che ha ottenuto. Cinque giri di lancette più tanti, l'opportunità arriva per gli offi, dimasso i piedi di strabelli nessuno riesce a spingere dentro il pallone che attraversa tutta l'area piccola. Il match cambia la mezz'ora, prima Saraniti non è fortunato, quando è storbiciata colpisce clamorosamente il palo sul capovolgimento di fronte. Pan Bianchi a terrenare il rigore fissore per il direttore di gara non ci sono dubbi e dischia la massima punizione che viene realizzata da Foggia che spiazza il numero uno dei salentini. La gara si incattivisce, i mazzini viene ammonito, Morra, vice di Costantino, riceve un rosso per proteste tra i campani, arriva anche la trazione per Bezzone, lo stesso che però che al primo minuto della ripresa trova il corridoio giusto per Foggia che firma il 2-0. Il doppio vantaggio spinge la capolista a cercare di interventare la partita, basta il ritmo e il caserano ci prova e all'ottantesimo serve un super intervento di Colombo per dire di no al colpo di tesa di Buzio. Tre minuti più tardi però l'estremo difensore dei campani non può fare nulla sul tentativo di Marzini che riapre la disputa. Nel finale i salentini trovano addirittura il pareggio con Sepe ma per il primo assistente la posizione del terzino rosso azzurro non è corretta e quindi si rimane sul 2-1 per la Cavese che vince questo importante sconto diretto mentre al caserano impone una settimana di duro lavoro in vista del prossimo impegno in casa. Ragnola svolta dalla panchina, il suo nardoccoli e il sesto successo in campionato resta imbattuto e al terzo posto del girone H del campionato di Serie D. In un Giovanni Paolo II senza il pubblico a causa della decisione del prefetto i Granata rimontano la Faragolesi a secco di vittorie nella nuova gestione a Govino vincolo 2-1 e salgono a quota 26 in classifica. In cronaca nell'undici iniziale di Ragno ci sono D'Ambro Seggionai a formare la coppia d'attacco in difesa il terzetto russo Lanzolla-Orchiza con De Giorgi Antonacci sulle corsie di centrocampo e il terzetto Cira Cimmengoli-Fedella al centro. Il match si sblocca al 38esimo Lanzolla non riesce nel retropassaggio al portiere Mancino si infila e cerca di saltare Viola che lo anticipa secondo il direttore di gara l'intervento del portiere Neretino è regolare rigore per gli ospiti che Longo trasforma facendo undici in campionato. Nella ripresa entra Ferreira arrivato in settimana assieme a Montinaro e svolta la partita. L'ex rotonda e la mezzia stacca benissimo di testa su corner battuto da destra e fa subito 1-1 Mengoli di testa all'occasione di ribaltarla ma è bravo provitolo a fermarlo con un riflesso provvidenziale. Il vantaggio arriva però poco dopo Ferreira avvia l'azione Polichetti crossa e Cira ci si inserisce bene di testa regala il gol vittoria che lancia il Nardò in terza posizione e lo porta con un successo al big match contro il Brindisi di domenica prossima. Intanto smentite le notizie di mercato che erano circolate in rete questa mattina da Nardò non parte nessuno né De Giorgi né D'Ambros e ovviamente neanche tu siete ovviamente lì avete sposato il progetto del Nardò quindi che aria si respira in vista certo troppo presto di questo derby un derby sentito ovviamente è stata archiviata da poco la gara di ieri ma come intendete affrontare questo match? Sicuramente sappiamo che troviamo un avversario molto forte davanti quindi abbiamo massimo rispetto dei nostri avversari però come abbiamo fatto fino ad oggi affronteremo anche questa partita sicuramente per vincerla poi quello che sarà il verdetto del campo lo vedremo domenica pomeriggio alle 5 mi auguro che al di là della partita sia una grande giornata di sport tra due compagini secondo me di due compagini e due piazze secondo me di alto livello quindi mi auguro solo che sia una giornata che possa rimanere impressa poi a tutti gli addetti ai lavori Dan Marco Gionai ha detto Antenica ma spente che vuole ritrovare la via del gol tu l'hai ritrovata ieri con il Molfetta quindi sarà un bel derby in questi due attacchi domenica prossima al di là di tutto il Nardò ovviamente gioca un po' a nascondino in realtà perché è un gran bello organico che potrebbe puntare anche alla vittoria di questo campionato che cosa possiamo dire intanto la vittoria di ieri che ovviamente abbiamo messo in evidenza tanto la reazione e la prestazione oltre al risultato ma la reazione a quel gol dello svantaggio c'è stato e questo significa che il Bini si c'è avevamo detto nelle settimane scorse ma che continua a uscire da questo periodo un po' particolare che stavate vivendo sì sì ieri è stata una partita dura l'abbiamo portata a casa questa partita ci dà molto molto morale poi per la partita di domenica sappiamo che troviamo una squadra in forma che non ha mai perso dare al verdetto il campo e vedremo cosa succederà dico a Gionai di stare fermo e di pensare alla prossima partita bellissima questa qualcuno ha detto che il Nardoro gioca a nascondino e che il Bini si subisce troppi gol e probabilmente dobbiamo capire perché li segna ma li subisce anche direttore sì Nardoro penso che giochi più a nascondino no certo anche perché ha fatto anche degli interventi ben mirati ha preso un attaccante comunque me lo ricordo l'anno scorso stava a rotonda comunque un bel attaccante Ferreira Ferreira stessa cosa anche per Montinari insomma stanno facendo le cose in maniera oculata e il fatto che non abbia ancora perso e che ancora oggi mi pare che in trasferta non ha subito ancora nessun gol questo la dice lunga su come la squadra sia quadrata allenata anche da un signor allenatore come mister Ragno che salutiamo che salutiamo certo Brindisi il discorso che abbia subito un po' qualche gol in più sì ci può stare però solo in quattro partite il Brindisi non ha segnato reti non ha segnato scusate non ha subito reti io penso che comunque ne abbia fatti anche tanti sì e quindi è come la coperta se la tiri da una parte può darsi che si può scoprire anche dall'altra quindi io penso che sia frutto anche di ogni singola partita ha una storia a sé forse qualche gol in più sì l'ha subito però io penso che con un attacco del genere la partita può sempre finire con un gol in più del Brindisi parleremo tra poco anche di Casarano ovviamente di questa match con il Cavese però voglio introdurre anche i ragazzi del Biceglie e dell'Unione Calcio Biceglie questa stracittadina che non si giocava da oltre 40 anni 70 anni addirittura quindi mi hanno proprio informato 70 anni allora una battuta a testa al di là del risultato ovviamente perché questa una stracittadina è ovviamente sempre una partita a sé come il derby diciamo solo che è della stessa città quindi si spacca una città in due che partita è stata? prima iniziamo con Luigi Zinetti poi con Simone senza dubbio è stata una bellissima partita anche per la tifoseria perché comunque c'erano parecchie persone allo stadio c'erano tutte le massime cariche comunali di Bicegliesi secondo me è stata veramente una bella giornata di sport al di là del risultato è stata anche una bella partita pirotecnica due a tre giocavamo noi in casa però alla fine non cambiava nulla abbiamo giocato in casa loro comunque ci siamo divertiti io mi sono divertito purtroppo non è andata come noi speravamo però purtroppo il calcio è fatto anche di dettagli siamo orgogliosi della nostra prestazione e aver fatto due gol ad una squadra che ne aveva subito uno in undici partite sicuramente sicuramente è frutto di una grande prestazione purtroppo nel calcio chi fa un gol di più vince è sempre così pensiamo alla prossima ma al di là di tutto è stata veramente una bella giornata di sport giocata con i fari quindi per me è una cosa che sicuramente come diceva Eneo prima potrà rimanere nella mente di tanti bicellesi Simone rivedere appunto la nostra cittadina dopo 70 anni come diceva prima Zinetti è pensare ad un bicelli è unito invece che ha fatto il professionismo c'è un po' di magone ma al di là di tutto voi ovviamente avete la necessità e la voglia di mettervi in evidenza chissà che un giorno non si possa tornare ai fatti di un tempo con una sola società non si sa mai la gara è stata esattamente così una bella gara un bello spettacolo sì sì è stata una bella partita sia dentro che fuori il campo perché era una partita simbolo diciamo per la città di Biceglie che magari la nostra società che è quella storica fino a qualche anno fa era anche un po' diciamo impensabile trovandosi nei professionisti però il calcio è così la partita di ieri è stata una domenica speciale per Biceglie in generale poi era un derby ok noi la sentivamo come sentiamo tutte le partite perché abbiamo l'obbligo e il dovere di stare lassù insomma fino a fine campionato per raggiungere un obiettivo importante poi l'obiettivo importante ti fermo quale subito vai diretto non possiamo di certo nasconderci perché la vittoria di ieri ci ha permesso di agganciare la vetta dopo un paio di mesi grazie al diciamo al pareggio del Manfredonia contro il Real City però sappiamo benissimo la regola anche che quest'anno ci sono i playoff il campionato è ancora lungo ora si apre il mercato quindi tutte si rinforzeranno ora ci sono altre due partite da giocare prima della sosta noi abbiamo la fortuna di giocarle entrambe di nuovo a Bicelli in casa dobbiamo fare assolutamente bottino pieno per poi ripartire da gennaio e cercare di rimanere lì su più tempo possibile Direttore Lorenzis qual è secondo te io faccio voglio ripindare perché è giusto che sia così il segreto di questo Nardò lo dicevamo prima Cristina io penso che sia stata tutta la squadra è stata costruita in maniera assolutamente solida hanno anche a parte il discorso dello staff tecnico a parte l'organizzazione che già da da un bel po' di tempo contraddistingue questa squadra io penso che l'aver creato una base importante difensiva dove ci sono comunque pilastri penso appunto a De Giorgi stessa cosa per l'altro centrale rosso esatto e poi hanno un portiere anche che comunque è una sicurezza come Viola lì davanti parteneo che è già un giocatore che secondo me può meritare anche categorie superiori adesso sono intervenuti anche a dicembre lì dove qualcosa forse effettivamente mancava con Montinare e Ferreira alla fine non stanno facendo non hanno fatto una campagna acquisti paragonabile voglio dire a quelle di inizio anno di che possono essere quelle sicuramente del Brindisi o del Casarano però è una squadra solida il fatto che non abbia mai perso è chiaramente da sempre più autostima più coraggio e secondo me potrà affrontare le partite successive nel miglior modo possibile anche perché non sono una squadra che è costretta a vincere un campionato però chiaramente trovandosi lì a quattro punti di distacco dalla vetta è chiaro che ci credono anche loro assolutamente allora vediamo le altre immagini Bitonto Martina e Puteolano Barletta vediamo è stata una girandola di avventurosa emozione il derby pugliese fra Bitonto e Martina mister Valeriano Loseto si affida allo stato sicuro per la difesa con il trio Gianfreda Silletti-Gomes subito dentro ne acquisto Cardore in mezzo con il regista Spinelli e il factotum Clemente esterni Riefolo e Guarnaccia davanti Palazzo e Figliolia il glorioso ex Neroverde Massimo Pizzulli sceglie i baluardi centrali Perrini e Sushi Cirutti e Tejo a palleggiare ancora Mangialardi e Pinto a sostegno di Diaz fioccano Pallegol in avvio di gara per i padroni di casa al dodicesimo Gomez aggancia e stanga dal limite fuori a ridosso del quarto d'ora doppia chance per il capitano prima stop e calcia dal limite cuoio che sfida accanto al paura poi si presenta solo dinanzi all'estremo Martinese che col piede arpione il tiro ravvicinava 60 secondi e collo destro esagerato di Palazzo alla mezz'ora passano sorprese i martinesi amnesia del pacchetto arretrato neroverde e botta secca di Cerutti appena dentro l'area giro di lancetti e ci riprova Diaz Petrarca sventa dopo attimi di smarrimento quasi allo scadere del primo tempo il pari corner da sinistra si letti svetta in sacca ad inizio di presa nuovo vantaggio di Biancazzurri punizione rapida dalla tre quarti cross al centro Guantoni di Petrarca salvifici e il piatto di Pinto manda il cuoio in rete al minuto 9 illusione del gol inzuccata di Cardore sfera ad un sospiro dal palo recupero Miracoloso di Cappellari al sedicesimo in tecle scivolato su Palazzo che stava puntando la porta altrui ormai spalancato infine il rugito di reazione dei Leoncelli lo griffa Capitan Palazzo al ventesimo con una discesa strepitosa ed una punta canaglia che trafigge Semeraro a sette prime dallo scadere e un guizzo prodigioso di Petrarca sul tiro di Ancora a proteggere il prezioso punto guadagnato un gol pesantissimo di Lattanzio al novantatreesimo regala al Barletta i tre punti sul campo della Puteolana i biancorossi espugnano il conte all'ultimo assalto e mantengono il secondo posto alle spalle della Cavese Farina ritrova vicedomini dopo un turno di squalifica ma soprattutto lo iodice dall'inizio confermato il 4-3-3 con l'esterno barese Maccioni e Russo in avanti Puteolana rinnovata dopo l'addio di 13 elementi Campilongo cerca punti per la salvezza partita ad altissima intensità agonistica e fasi del gioco spezzettate con quattro munizioni nel giro di mezz'ora la prima vera occasione arriva al 42esimo con Russo a tu per tu con Lamberti il portiere della Puteolana salva tutto un minuto più tardi per i campani ci prova Romeo che vince un duello ma viene murato dalla difesa biancorossa nell'unico minuto di recupero punizione tagliata di Gatto su cui Romeo sfiora il vantaggio dei padroni di casa si va a riposo sullo 0-0 la ripresa comincia con l'esordio di Matteo di Piazza che prende il posto di Lavopa il gioco stenta a decollare anche nel secondo tempo e la prima occasione per la Puteolana al quarto d'ora Romeo si libera centralmente ma calcia in modo sbilenco da fuori aria al ventunesimo sugli sviluppi di un angolo ci prova vicedomini dal limite destro al volo alto un minuto dopo tentativo della Puteolana con Guarracino anche il suo destro oltre alla traversa al 38esimo Loiodice serve Lattanzio entrato per Russo tiro centrale per Lamberti il Barletta prova ad alzare i ritmi al 45esimo Loiodice si distende sulla sinistra e calcia a giro senza inquadrare lo specchio al 48esimo esplode il settore ospiti di Pozzuoli palla in mezzo di Loiodice c'è Lattanzio di testa che batte Lamberti per l'1-0 del Barletta con l'ultimo colpo di coda i Biancorossi strappano tre punti enormi in Campania e restano nella scia della cavese capolista Domenica nuovo capitolo al Puttilli arriva il Matera e allora prima di tornare a discutere di questo e di altro ancora linea alla regia per qualche sette di pubblicità tra poco torniamo in diretta con Lunedì Puglia e allora abbiamo visto prima della pubblicità le immagini delle gare appunto della Casarano scusate della Barletta disputata a Pozzuoli con la Putolana e il match tra Abitonto e Martina abbiamo in collegamento dovrebbe esserci proprio il tecnico del Abitonto Valeriano Loseto buon pomeriggio mister ciao Cristina ben trovata ben ritrovato allora buonasera ai tuoi ospiti che bel campionato che stiamo vivendo equilibrato tranquillo forse si intropo dalla parte alta ma cominciamo da quello che è successo ieri tra Abitonto e Martina sì ieri credo che la gente che è venuta alla città dell'Ulivi non si sia annoiata visto le numerose occasioni dal gol che si sono creati abbiamo fatto una buona mezzoretta durante la quale abbiamo creato diverse paregol ma non siamo stati cinici nel concretizzarlo poi appena il Martina si è presentato nel rigore ci ha puniti abbiamo avuto un attimino di sbandamento e abbiamo concesso una palla a Diaz e lì è stato bravo Petrarca a parare però poi Siletti ha fatto valere le proprie doti aeree e ha realizzato il pareggio quindi siamo andati sul pareggio al primo tempo secondo tempo diciamo sicuramente un po' meno brillante del primo però abbiamo subito questo gol da uno schema sul pallino attivo dove abbiamo dormito onestamente però poi ci siamo ricompattati e ci abbiamo creduto e quando poi dispone davanti di gente come Palazzo figlio lì riesce anche a trovare il 2 a 2 che è più che meritato tra l'altro Palazzo che ha fatto un gran gol direttore De Laurentiis sì ha fatto un gran gol ieri ma ancora di più in settimana è un giocatore secondo me anche lui un giocatore formidabile che quando ha la possibilità di poter punire non se lo lascia sfuggire come abbiamo detto anche la settimana scorsa il Bitonto sono complimenti anche al mister Loseto sono più giornate che dimostra comunque il suo valore forse qualche punticino in più lo poteva avere però io penso che sono sulla strada giusta per poter venirne fuori ancora meglio se dovessero fare anche qualche acquisto mirato secondo me potrebbero essere tranquilli allora vediamo un attimo la classifica regia vediamo un attimo di commentare appunto i punti che ha conquistato il Bitonto sino a questo momento eccolo lì il Bitonto ha 16 punti uno in più della Fragolese che ormai è in caduta libera permettetemi di dire questo anche perché lo dicono i numeri non io ed è avanti al Bitonto solo il Matera che sta facendo una gran risalita con un punto allora tra Matera Bitonto e la Fragolese allora io voglio chiedere a Valeriano Loseto a Fragolese abbiamo detto che è in caduta libera anche perché dovrebbe esserci un passaggio del presidente Nutta dalla Fragolese alla Nocerina ma qui entriamo in argomenti ci vorrebbe un'altra trasmissione però c'è anche questo Matera che nella voglia di salvarsi continua a fare punti allora che cosa possiamo dire a proposito di questo chi temi di più di chi ti precede mister senza falsa retorica sinceramente io temo sicuramente il Bitonto noi stessi perché noi siamo artefici del nostro destino io lo dico sempre perché tutte le squadre di questo campionato di questo girone si sono attrezzate ognuna per i propri obiettivi al meglio tutte hanno profuso energie e dispendi economici importanti per raggiungere i propri obiettivi quindi noi cercheremo di raggiungere il nostro nel più breve tempo possibile che certamente non avverrà tra un paio di mesi ma sarà fino alla fine la classifica per me è anche un po' bugiata perché noi è vero che siamo lì a due punti sopra la zona play out però meritavamo sicuramente qualcosa in più anche come detto dal direttore De Lorenzis perché noi si è giocato sempre bene in qualsiasi luogo contro qualsiasi squadra eccetto forse il secondo tempo di Brindisi ma oramai storia passata eravamo ancora in fase di rodaggio non bisogna dimenticare che il Bitonte è una squadra completamente nuova rispetto agli altri anni con obiettivi diversi e io ora sto iniziando noi anzi stiamo iniziando a raccogliere i frutti di quel che abbiamo seminato magari nella prima parte anche perché la fortuna ci sta anche un po' girando magari in altre occasioni anche il punto di ieri lo avremmo perso invece siamo stati capabbi e odaci a raccogliere questo punto che ci fa consolidare e aumentare in classifica poi ripeto ognuno è artefico del proprio destino assolutamente il direttore De Lorenzis parlava anche di qualche puntello che potrebbe arrivare dal mercato per centrare più presto questa permanenza tranquilla che cosa cerca quindi il bitonto da questo mercato di riparazione magari come ieri e ieri avete notato abbiamo fatto giocare subito Antonio Cardore che è un centrocampista da grandi qualità atletiche un buon piede una grande esperienza solo che forse non giocando da un po' di tempo ieri ha accusato anche il campo che era sicuramente un pesante e quindi col passare del tempo credo che Antonio ci darà una grande mano una grande esperienza ripeto siamo sempre vigili sul mercato con il direttore Rubini e con il presidente Orlino affinché si possa trovare anche magari quella punta che possa dare una mano ai tre la davanti a cercare di più la via del gol ripeto anche se dovessimo rimanere così come siamo io dispongo di una buona squadra che lotterà sicuramente per centrare l'obiettivo prefissato però forse anche con meno patemi d'animo rispetto alla prima parte abbiamo il tempo per una domanda di direttore De Lorenzis al mister Roseto sì mister ti volevo chiedere sicuramente determinate partite le hai portate a casa considerando anche la squadra che ha sfoderato ottime prestazioni dal punto di vista proprio della grinta e della personalità diciamo che ripercorre un po' quello che è il tuo carattere perché io penso che il valore aggiunto che stai dando è dal punto di vista appunto caratteriale e non a caso determinate partite che le hai anche ribaltate oppure tipo anche giovedì che non era semplice giocare 30 minuti avete fatto gol su un campo pesantissimo a due gol della fine diciamo che rispecchia un po' quello che è il tuo modo di fare calcio e la tua volontà sicuramente fa piacere essere riconosciuto questo dagli addetti ai lavori insomma da una figura anche importante come può essere quella del direttore sportivo dell'Arense e io dico sempre che ogni allenatore ha le proprie idee però trasmetterle in una certa maniera ai propri calciatori può fare la differenza sicuramente la mia idea di calcio è diversa da tanti altri allenatori però se a questa non ci abbini un po' di cattiveria sportiva cattiveria agonistica voglia temperamento qualsiasi idea può essere magnificata ecco non bisogna mai mollare nel calcio mi ha sempre insegnato questo che durante i 90 minuti non devi mai mollare perché anche all'ultimo minuto come è successo contro il Francavilla può essere premiato oppure come è successo con il Gladiator se non hai grande attenzione rischi di perderlo pareggiando quindi idee calcistiche io credo di averne però mi riconoscono tanti il fatto di trasmettere in una certa maniera io stimo tantissimo tra l'altro Valeriano Roseto è uno dei pochi allenatori che dice pane pane e vino al vino e per questo ti ho sempre ammirato mister grazie ovviamente a te per essere stato con noi e a presto grazie a voi ciao buon pomeriggio mister allora up and down ci sei? siamo pronti? andiamo a vedere Nardò e Casarano andiamo con la grafica naturalmente per vedere chi è l'up ma è facile immaginarlo e chi è il down esatto le motivazioni cioè le motivazioni le giustificazioni vengono da sé è chiaro che il Nardò abbiamo dato l'up per le motivazioni che abbiamo detto prima squadra fondamentalmente nuova che comunque non era obbligata a vincere nulla e si trova lì e quindi complimenti al Nardò diciamo che non voglio dire delusione però sicuramente già da un po' di domeniche che le cose non quadrano considerando anche gli obiettivi iniziali e il Casarano secondo me qualche big match lo sta lo sta fallendo e quelli poi sono punti che alla lunga chiaramente pesano solitamente nel bar dello sport si dice che i big match falliti non del Casarano in generale o gli sconti diretti falliti significa che non è il tuo anno però ovviamente è sempre però non è è vero questo non lo voglio dire perché voglio dire può essere che comunque sono 8 punti non parlavo del Casarano attenzione era una battuta che solitamente tra tifosi sento Nardò beh insomma è una bella cosa è vero anche perché i concetti espressi dal direttore De Lorenzi sono stati importanti di cosa vogliamo aggiungere? niente che siamo siamo contenti di vivere questo momento e quindi ce lo godiamo al massimo però senza mai abbassare la guardia perché sappiamo che il campionato è difficile ogni partita è tosta o giochi con la prima o giochi con la terza o giochi con la quinta o giochi con l'ultima certo le partite sono sono molto difficili vediamo ieri il Barletta che è riuscito comunque a spuntarla all'ultimo minuto sul campo della Putolana quindi questo fa capire quanto è difficile ogni partita stai già pensando al gol che vuoi fare domenica vedi che ti vede e ti sente Gaetano ovviamente con voi parliamo non solo delle squadre in cui giocate ma anche di tutto il resto di tutto questo campionato parlavamo prima di questo Barletta che non molla assolutamente il Green si è giocato contro il Barletta proprio il Fanuzzi un Barletta che non molla che ieri l'ha spuntata con difficoltà su una Putolana che ovviamente è in difficoltà fa l'annino di coda ma abbiamo visto anche con il Green che non si arrende facilmente Barletta che lì che all'inizio stagione nessuno l'aveva annoverato tra questa rosa che aveva puntato alla vittoria del campionato ma c'è sicuramente una base importante di questa squadra chi ha agito ha agito in maniera mirata e adesso il Barletta è lì secondo in classifica solo due punti dalla Cavesa Sì il Barletta è una squadra è una squadra quadrata che non molla mai che aspetta il tuo errore e ti punisce loro sono molto bravi su quello e si vede dalla classifica sono almeno due dalla Cavesa loro hanno fatto degli inesti a inizio anno molto mirati con la squadra che ha vinto l'eccellenza l'anno prima quindi era già un gruppo formato e questa cosa può influire anche positivamente anche tanto sul campionato Fanelli e Zinetti mi date il vostro pronostico su chi potrebbe vincere questo campionato di serie D secco secco se devo scegliere una su tutte secondo me ad oggi la Cavese diciamo a 360 gradi a livello di piazza di sostanza di squadra di diciamo anche a livello numerico come giocatori a me piace seguire la serie D perché è un campionato che ho anche fatto molti anni la squadra è al momento più solida e pronta secondo me per il salto di categoria e invece per Zinetti onestamente non conosco tanto la Cavese devo essere sincero però ho l'impressione che il Nardò ma non per Eneo per tutti gli altri e il mister ho l'impressione che il Nardò possa dare filo da torcere fino a fine campionato e conosco il mister l'ho avuto e so che fino all'ultimo secondo dell'ultima partita venderà a cara la pelle e sputerà sangue insieme a tutta la squadra per raggiungere l'obiettivo da macco chi vince questo campionato? non lo dico ovviamente era una provocazione allora io a questo punto tornerei con il vicepresidente e con il nostro amico Gigi De Lorenzis vicepresidente allora non ti chiedo chi vince il campionato ma ti chiedo quale gara vorresti rigiocare non mi dire tutte le altre insomma quale gara vorresti rigiocare con più attenzione con meno sbavature a proposito di quei punti persi per strada io fra tutte rigiocherei Brindisi Casarano sì perché poi la partita è stata comunque decisa da lì da episodi extracalcistici quindi è peccato non aver visto poi davvero il valore degli altri rimessi in campo quindi tra tutte rigiocherei quella volentieri classifica in onda perché poi vediamo anche i gol più belli Gigi tolgo la cavese Barletta Nardò Brindisi Fasano Casarano io ci metto anche l'altamura per i motivi di cui abbiamo sempre parlato in queste settimane lì che cosa potrà accadere nelle prossime giornate stavamo parlando prima a telecamere spente ci sono parecchi incroci in queste tre settimane di scontri diretti quindi secondo me questi scontri diretti saranno daranno un'indicazione per come si potrà procedere io penso che tolta la cavese Brindisi e Barletta possono dire qualcosa in più il Nardò lo vedo comunque come una mina vagante nel senso che sta lì è vero c'è una squadra quadrata non subisce gol potrebbe dire la sua però come organico e come situazioni generali penso che Brindisi e Barletta abbiano qualcosa in più l'altamura come il Casarano stanno adesso a 22 punti è vero che sono soltanto 8 punti però non sono pochi siamo alla quattordicesima giornata dipende anche dal mercato come si evolve fino al 23 dicembre insomma quindi capire quanto ogni squadra possa decidere di rinforzarsi quanto cambieranno queste squadre esatto dal proposito scusa devo chiedere al presidente Di Piazza è un giocatore che dalle indubbie qualità tecniche sicuramente a Brindisi non è non è nato subito un feeling tra lui e tutto l'organico o quantomeno anche lui si è messo in determinate condizioni affinché non nascesse questo tu pensi che lui a Barletta possa trovare l'ambiente giusto io io credo che se Matteo ritengo un ottimo atleta entri in qualsiasi squadra con il piglio giusto può essere quello che abbiamo sempre detto un calciatore di categoria sicuramente superiore rispetto a quella che sta svolgendo quest'anno probabilmente la sua difficoltà è stata proprio quella di riuscire ad adattarsi ai ritagli di partita che gli erano stati dati piuttosto che una tipologia di gioco magari diversa da quella che lui anche se quella era una quadratura del cerchio importante che era stata trovata cioè di piazza a gara in corso da Macco dall'inizio Santoro dall'inizio eccetera c'era stata questa quadratura che Danuce aveva trovato e aveva segnato 5 gol di piazza probabilmente se avesse accettato maggiormente quel ruolo tra virgolette di partire dalla panchina sarebbe ancora lì vi auguro sicuramente di avere tutte le fortune che merita e ne merita perché è un grande atleta il ragazzo qui abbiamo parlato tranquillamente è comunque una bravissima persona indipendentemente assolutamente è andata così l'abbiamo preso per altri motivi però è andata così siamo contentissimi di chi l'ha sostituito e soprattutto di chi già avevamo in rosa quindi di Gaetano e dei suoi compagni siamo sicuri che possiamo contare su di loro e mi auguro che tutti quanti riescano a dare il massimo per raggiungere i nostri obiettivi Gionai metti le mani così metti le mani così Santoro rientra con il Nardò scherzo Domenico sta facendo il possibile cercheremo di recuperarlo per Domenica se dovesse non essere così sono convinto che l'undici che scendere in campo darà sicuramente vita difficile al Nardò allora andiamo a vedere i gol più belli di questa Domenica sono quelli di Nolè del Francavillenzile di Lattanzio della Barletta di Cerutti del Martina di Palazzo del Bitonto attenzione io ci metto anche se lui non l'ha messo anche quello del giocatore del che non mi viene il nome di Fucci che ha praticamente sparato un missile terra ma è entrata io credo che Vismara si sia scostato per non avere vero? ce ne sono stati parecchi belli poi dopo abbiamo un po' alternato altrimenti avremmo messi tutti i gol andiamoli a vedere così li commentiamo vediamo i gol più belli grazie a tutti Il gol di Valazzo era quello del match di recupero con il Francavilla in Zinni, giusto? Sì, giusto. Io tra tutti i gol, un po' per come si sono, cosa hanno determinato, io dico che il gol più bello è stato quello di Palazzo. Bene, l'avete visto? Siete d'accordo? Assolutamente sì. Non l'avevo visto, l'ho visto ora. Ragazzi. Meriti e demeriti. Meriti di Loris, ovviamente ci sono anche dei demeriti difensivi, però è un bel gol. Sì, sì, il gol di Loris su tutti, anche se quello di Riccardo Lattanzio può sembrare banale, però secondo me ha fatto un grandissimo gol, perché era un cross che arrivava, diciamo, non ti arriva la palla magari di fronte, ma gli arriva di spalle. Poi Riccardo ha dei colpi assurdi e come anche pesantezza di risultato, credo sia stato il gol più fondamentale di questa giornata. Per il minutaggio, 93. Per me, credo che risponderà, il gol più importante era stato quello mio, Dammacco, no, scherzo. Quello di Loris, quello di Loris. Loris. Sì, sì, sì. Loris. Applauso, applauso. Non era difficile. A Gigi De Laurentiis. Andiamo avanti perché dobbiamo vedere anche la top 11 e commentarla con il direttore De Laurentiis, ma anche magari con il vicepresidente, può essere vicepresidente del Brindisi. Allora, andiamo con De Laurentiis, vai. Allora, intanto anticipo che nella top 11 non c'è Ionai, quindi ogni volta che viene domani non c'è nella top 11. Aspettiamo qualche gol anche di Eneo, non da domenica per il presidente, però vedete un po' voi. Allora, questa settimana abbiamo scelto come mister, mister Ragno del Nardò, che dovrà adeguarsi al 4-2-3-1 che abbiamo messo. In porta abbiamo messo Ceca del Fasano, portiere albanese, assolutamente forte e convocato anche nella nazionale albanese. Centrale difensivi abbiamo premiato Silletti del Bitonto, autore anche lui di un bel gol su colpo di testa ieri. E Matera dell'Altamura, che comunque, nonostante la sua età, è sempre in forma ed è lì sempre a comandare il reparto difensivo. Sugli esterni siamo andati con Rossi il 2003 della Cavese, ricordiamo il ragazzo è di proprietà del Napoli e ha comunque avuto già un'esperienza in DIL l'anno scorso nella Torres. A sinistra Gianmarco Antonacci del Nardò del 2001, anche lui sta facendo molto bene, anche ieri ha fatto una buona partita. Al centrocampo abbiamo premiato Vicedomini del Barletta, il sempreverde Vicedomini, che riesce a dare equilibrio alla sua squadra. Ci abbiamo messo a fianco anche il 2004 Cira C del Nardò, anche se forse è un po' adattato nel centrocampo a due, visto che ieri parlano anche con Eneo, ha giocato a mezzala, no? Ok, lui è un 2004 e l'hanno prelevato dalla società della Miccoli del Lecce, però ha avuto anche l'esperienza nell'Under-19 della Tristina. Attacco, diciamo, abbiamo messo un po' di bombe. Terminale offensivo Piccioni del Matera, lui è un 91, ha fatto 4 gol quest'anno. Lui è cresciuto nella San Benedettese, poi è stato dal 2013 al 2017 andato all'estero, per poi ritornare in Italia ha fatto con l'AD, con piazze comunque importanti come Messina e Acireale. Sotto punta Gaetano D'Ammacco al suo quinto gol stagionale, anche lui è un ragazzo che meriterebbe anche altre categorie. L'anno scorso, me lo ricordo, anno c'era, faceva la differenza. Complimenti alla società del Brindisi per esserselo assicurato. Stessa cosa per Danda, esterno offensivo, anche lui non è giovanissimo, però si fa sentire, il ragazzo esperienza, arrivato mi pare al quarto gol, quinto gol, quinto gol. Stessa cosa abbiamo messo anche Palazzo al suo sesto gol, che chiaramente sta aiutando il Bitonto a risalire posizioni in classifica. Bene, noi siamo quasi in chiusura, però permettetemi di fare l'ultimo cenno, proprio ha inserito Piccioni del Matera in la top 11. Matera che sette turni fa aveva quattro punti in classifica, ora avete visto dov'è, merita un plauso ovviamente tutta la squadra, ma anche un allenatore salentino come Toto Ciullo, direttore. Sì, sì, hanno fatto questo cambio non a caso, sicuramente Toto Ciullo sarà portando la sua esperienza, decisamente comunque il Matera non era una squadra da essere ultimo in classifica, ma come del resto possiamo dire anche della Putiolana, però è chiaro che quando si legge giù, poi dopo ogni partita diventa pesantissima, lo stiamo vedendo anche con il Gravina che sta facendo fatica, anche se ha preso un buon punto anche a Francavilla, però quando si è più lì in quelle zone di classifica risalire non è semplice, e quindi sarà una bella lotta. Nel calcio? Nel calcio, ieri abbiamo pareggiato a Molfetta 1-1, peccato perché vincevamo, poi siamo rimasti in dieci tutto il secondo tempo per nostra ingenuità, però stiamo a quattro punti dalla vetta, che il Canausa è, abbiamo adesso due turni in casa, sicuramente cercheremo di vincerle entrambe. Quando dici così poi ci rivediamo alla lunedì successivo con una bella notizia. Speriamo. Speriamo bene. Grazie a Gigi De Lorenzis, direttore sportivo del Nick Calcio Bari, grazie al vicepresidente del Brindisi Damiano Possessere, ai ragazzi del Bicelli e Simone Fanelli, e dell'unione del calcio Bicelli e Luigi Zinetti, a Gatano D'Amacco, attaccante del Brindisi, e a Gionai Eneo, attaccante del Nardò, voi vi rivedete prestissimo domenica prossima per il derby. Noi ci rivediamo invece lunedì prossimo con Lunedì Puglia, sempre su Antenna Sud. Grazie a tutti per l'attenzione, arrivederci e grazie a tutti. Grazie a tutti.